Le parole chiave si disperdono, i soldati disarmati accettano di cambiare il mondo, l'unica ragione per cui l'anima vive. E qua continuo a sentire delle voci da lontano, frasi, delle frasi un richiamo, un annuncio, l'annuncio di una nuova era, l'annuncio di una nuova identità, un'identità intesa come cammino, non una fotografia di come eravamo, ma l'annuncio di come vogliamo essere e di come saremo, aprendoci al mondo, aprendo porte e finestre e dicendo costruiamo insieme il cambiamento. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti